Sì, è il momento. Lanciala, lanciala. E Stefano, un'emozione, è un'emozione, un'emozione per me. Spero per tutta la squadra. Sì, veramente. Fiaso, lo so che hai gli occhi, hai gli occhi in alto. Vorresti a parlare con i miei ragazzi. Tornerai, tornerai. E' un primo dei problemi a pensare. Ieri ci avevo visto un po' di difficoltà. Come siamo oggi, mister? Alla grande. Dave Nirvana. Maria De Di. La maglia arancione, cazzo, 88. Mamma. Ti vedi? No, no, no. E? 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 Bravo, bravo. No, no, no. Ah, di chi è questa? Di chi è Marco? No, no. Questa è tua. No, no. Sono felice che la batti sempre. Questa è tua. Barriera. Barriera, barriera. No. Marco. Eccoli lì. Guarda il ginocchio, guarda il ginocchio. Guarda il ginocchio, guarda il ginocchio. No, scusa. Una cicasette, un po' di etico. Di responsabilità, ti dico. Sei pieno di bulla! Grande giovane! Scusa, dai, faccia entrare due ragazzi qua per cortesia. Oh, dai, vieni, via. Eh, l'ha fatta, l'ha fatta. Nelco! Uh, mamma. Giorgio, dentro, dai. Questa è bellissima, Dio. Guarda, guarda, guarda. Ma che bello, guarda. No, 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 no. No, 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 no. Bravo! Ah, per il milan bello. Dai, buon! È riuscito ad entrare come giallo. Ha ruttito! Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Ragazzi, siamo in tre, su Mamma Diego, fatti vedere Sto scattando Buona fiube Buona fiube Bravo Reggio, non farla che balla lì Mi sono in un po' di Davido Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda 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 tira 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 signori oggi non ce nè, oggi non ce nè temporeggio bevendo spumagni cicrico ciao facciamo le spalle solo grigio solo ma no e lo facevi giocare in porta doppietta il telefono c'è 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 portava a casa il pallone qua grigoliaro bravo il video che li ha messo nei 7 oh oh ma si è emozionato si è emozionato buona eh no invece no non la batte più lui il zilecchio ma abbiamo un abbonamento eh abbiamo le barriera ah bravo bravissimo c'è berto c'è berto c'è berto dai da subito che è no la maratona la mezza maratona solo carri solo ma importa questa esperienza del nono save ma non possiamo difendila carino addormenta addormenta bravi se facciamo questa la merda la vacca stronta l'uamara wow veramente veramente ma cos'è danny danny guarda lì 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 sky sport 24 marco da polla l'uamara lì 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 lì